Il cassero di Montevarchi. Gira la pagina. Il cassero sembra un castello medievale. La torre centrale e le mura laterali, più basse, sono in ciottoli del fiume Arno e coronate da merli. Il secondo piano, aggiunto successivamente, è intonacato. Nella facciata ci sono due porte, una rettangolare e una ad arco, e cinque finestre. Gira la pagina. La pianta ha uno sviluppo orizzontale. Il quadrato centrale indica la torre, che è avanzata rispetto ai corpi laterali di forma rettangolare. Le mura del perimetro sono molto spesse. Gira la pagina. Il cassero si affaccia sulla grande piazza Vittorio Veneto. La pavimentazione liscia e grigia si alterna a quella in ciottoli, che indica dove si trovavano la porta e le mura medievali. Nella parte destra della piazza ci sono tanti alberi, che in primavera fanno dei piccoli fiori bianchi. Gira la pagina. Cenni storici e curiosità. Gira la pagina. Il cassero era la torre maggiore delle mura cittadine, costruite nel XIV secolo, per difendere il paese dalle continue lotte tra Firenze e Arezzo. Dalla cima della torre, i soldati vedevano i nemici arrivare e avvertivano di tirare su il ponte elevatoio. Gira la pagina. La piazza dove si trova il cassero si chiamava in origine Piazza del Popolo. Da questa piazza, nel Novecento, passava anche il tram, che collegava Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Terra Nuova Bracciolini e Levane. Gira la pagina. Nel corso dei secoli, l'edificio ha subito vari cambiamenti d'uso. A fine Ottocento divenne sede della caserma dei Carabinieri, che qui rimasero fino agli anni Novanta del Novecento. Gira la pagina. In quel periodo, la grande sala al piano terra, oggi chiamata statuario, veniva usata come autorimessa. Gira la pagina. Il cassero, oggi è un museo di scultura italiana dell'Ottocento e del Novecento, contiene oltre 500 opere. Una delle più importanti per la città di Montevarchi è il busto in bronzo di Castone Brilli Peri, realizzato da Pietro Guerri. Gira la pagina. Vorrei andare al museo. Percorsi di accessibilità museale. Un progetto del Cassero per la scultura italiana dell'Ottocento e del Novecento. Museo civico di Montevarchi, riconosciuto museo di rilevanza della regione toscana. Il libro tattile è realizzato nell'ambito del progetto Vorrei andare al museo. Percorsi di accessibilità museale, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e il partenariato del Museo Tattile Statale Omero di Ancona, con la collaborazione di Promocultura e dell'Istituto Comprensivo Statale Raffaello Maggiotti. Gira la pagina. Testi. Classe prima D, anno scolastico 2023-2024, della Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo Statale Raffaello Maggiotti. Responsabili del progetto. Lucilla Baldetti, educatrice museale di Il Cassero per la scultura italiana dell'Ottocento e del Novecento. e Tommaso Lalli, docente istituto comprensivo statale Raffaello Maggiotti. Coordinamento. Federica Tiripelli, direttrice Il Cassero per la scultura italiana dell'Ottocento e del Novecento. Consulenza scientifica per l'accessibilità. Manuela Alessandrini, Monica Bernacchia, Patrizia Calderone, Massimo Gatto del Museo Tattile Statale Omero. Ringraziamenti. Laura De Bolini, dirigente scolastico. Danny Rinaldi e Sara Fafi.